Una donna di origini africane è rimasta gravemente ferita in seguito allo scoppio accidentale di una bombola di gas avvenuto durante la notte all'interno di una baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone, l'insediamento abusivo che si trova a pochi chilometri da Foggia. Data la gravità delle sue condizioni, avendo riportato ustioni sull'80-90% del corpo, è stata trasportata al centro grandi ustionati di Bari. L'esplosione è avvenuta attorno alle 2.30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle macerie e inoltre a seguito dello scoppio della bombola è divampato un incendio che ha distrutto diverse baracche. Episodi del genere purtroppo sono già accaduti nel ghetto come lo scorso aprile quando un rogo partito da un allaccio abusivo alla corrente elettrica provocò la morte di un piano di 26 anni, mentre il 1 novembre 2018 in un altro devastante incendio perse la vita un giovane africano. Nel ghetto di Borgo Mezzanone sono in corso da tempo una serie di azioni coordinate dalla prefettura volte al progressivo smantellamento dell'insediamento abusivo.